La luce della società trasparente che è quella per cui un tizio si riempie di selti mentre in realtà sta letteralmente come un polipo entrando all'interno di tutto l'architrave della società. Nel momento in cui non c'è più la divisione del lavoro sociale, la divisione del lavoro di potere e c'è un uomo solo che con delle sostanzialmente marionette governa gli altri pezzi di governo e di Stato. Dove le marionette sarebbero il Movimento 5 Stelle nello specifico? Il Movimento 5 Stelle ma anche i suoi stessi membri di partito. Cioè di che cosa stiamo parlando in questo momento? In questo momento stiamo parlando letteralmente di una piovra al potere che cerca anche di scavallare i sindaci con i prefetti che sono di competenza del suo ministero. Cioè lei mette insieme capo la questione sindaci, la polemica con il ministro Trent e quindi la difesa, le forze militari che si risentono. Lei mette insieme queste cose e magari più di queste per dire attenzione perché non è quello che lo comando. O troviamo un'unica narrazione e capiamo che il problema ha a che fare con lo spirito del tempo e non con i Salvini che si fa il senti con la pasta asciutta perché quello è per prendere i voti nel popolo analfabeta che lo vota. O capiamo che c'è un problema di spirito del tempo per cui si sta letteralmente spaccando l'asse dell'organizzazione democratica pre, diciamo così, reintroduzione della trasparenza. Oppure giochiamo e a un certo punto ci troviamo il mostro al potere. Una volta che al potere tutti diranno come è possibile, chi l'ha votato?